Dopo due anni e mezzo di vertenza hanno deciso di ritornare padroni del proprio destino e di scegliere di occupare, o meglio, far partire l'assemblea permanente all'interno dello stabilimento e bloccare la produzione a partire dal lunedì. Consapevoli che bloccare la produzione significa staccare la spina anche a quel poco fatturato che ci permetteva di sopravvivere. Prosegue l'occupazione dello stabilimento della FIMER di Terra Nuova a Berciolini, azienda specializzata in inverter per il fotovoltaico, una decisione presa dopo che è saltato l'accordo tra la proprietà e il gruppo Grebul-Meclare. Io ho lavorato per ben 43 anni e adesso vedere una situazione simile fa veramente male. Un colpo di scena è arrivato lo scorso giovedì mattina nell'aula del giudice fallimentare Federico Pani che aveva convocato d'urgenza le parti. Qui l'annuncio della proprietà della rinuncia alla procedura di concordato in atto dallo scorso settembre ed il ritorno sull'orro del baratro. Con il rischio che possano partire ingiunzioni, istanze di fallimento, diventa veramente complicato capire quale sia l'obiettivo e lo scopo di questo atteggiamento. Da qui la decisione dell'occupazione. Meglio andare in questa direzione e prendere, o meglio, mettere un punto definitivo a questa vertenza che possa essere anche il fallimento piuttosto che continuare a sopravvivere con una proprietà che è assolutamente incapace e incompetente. L'organizzazione prevede la suddivisione squadra in un presidio permanente giorno e notte con turni di sei ore. Sarà così sino a quando non arriveranno novità per il futuro della fabbrica che dà lavoro a 280 persone, 400 se si considera l'indotto. Coscome lo stabilimento non è della proprietà ma è dei lavoratori, noi lo difenderemo a spada tratta. Il gruppo Greybull McLaren, che era disponibile a dare 10 milioni di euro subito e 40 successivamente, nonostante tutto avrebbe confermato il suo interesse per lo stabilimento di terra nuova. Se la fortuna, perché a questo punto mi sembra bisogna affidarsi solo alla fortuna e non tanto alla clemenza o anche alla responsabilità della proprietà, ci assiste, ecco vorremmo quanto prima poter avviare una negoziazione con loro sulle scelte del futuro.